Il robot HSD è in grado di interfacciarsi con tutti i sistemi di gestione presenti sul mercato. Utilizza protocolli di comunicazione che sono potenziali per tutti i gestionali presenti nelle farmacie. Il software di pilotaggio e di mappatura e di automazione del robot è un software proprietario e si chiama GEFAR3.